O che poi non ci venga a dire quante ne avremmo già posate di ste fieste belle? No, questo qui, se non è un teatro di posa questo... Ah no, che vuoi dire? Cosa state facendo, scusa? Stiamo posando. E cosa c'è? Stiamo studiando per la posa e posiamo. La posa, ah per la posa. State facendo la posa. C'è un po' qualcosa da ritirare? Sì, sì, c'è qualcosa da rifinire, però qui dentro c'è qualcosa da rifinire. A casa, a casa. Va benissimo qui, bel lavoro, complimenti. A casa. Io non ho pazzo da me, ma ho posato, tutta mattina che posiamo.